Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi è un video come gli altri, è un video diverso, diverso, diverso. Allora, allora ragazzi, ok allora ragazzi, oggi è un video diverso perché oggi sapete che è Alphabet Lore, il gioco dell'alfabeto, ecco, andremo a scaricare i giochi più pazzi di Alphabet Lore, non sto parlando di Alphabet for Chisa, BC Learning, di Alphabet Lore, il gioco dove c'è la E, anzi sto facendo delle mozze su Alphabet Lore, comunque, il primo gioco che ho visto che potremmo scaricare è Alphabet Lore, in Bospa Q Studio, questo è un gioco di simulazione della tradizione dell'alfabeto, come c'è la tradizione, perché è F senza denti, vabbè mi ispira, scaricchiamolo. Poi abbiamo Alphabet Lore Cal, beh me lo aspettavo, ok andiamo, poi Alphabet Lore Coloring Book, oddio bellissimo, Alphabet Lore Coloring Book è un ottimo gioco per giocare, imparare nuove cose, vabbè imparare una n scema, cos'è, cos'è n scema, allora, poi abbiamo quest'altro caso, ma la madonna, questo sta facendo, trasforma battazzi, non farà il BF o trasformerà la tradizione dell'alfabeto, trasformerà il gioco nel caos, che vuol dire, perché, perché cos'è sta schermata, perché sembra chad, cioè si gira chad, voglio dire, mh. Mazzi cosa sto scaricando nella mia vita, perché non esiste una mod di Alphabet Lore, esiste una mod di Alphabet Lore di FNF, come regola? Sì esiste, ma pubblicata, ma cos'è sto sprite, non ho mai visto sto sprite di FNF, ma che mi larga il Play Store, la madonna, mh. Alphabet Lore, questo mi ispira, ce l'ha, ah, Dr. Leipzig Walking. Ciao, benvenuti in Alphabet Lore del gioco, in che senso, se non ho paura. Ok, la te lo deduci. Il mondo per la migliore esperienza con gli alfabeti, giustamente gli alfabeti, ragazzi. Il fanatico gioco alla tradizione dell'alfabeto è qui. L'avventura inizia con le lettere, ogni alfabeto ha la sua verità, divertendo a modo suo. Scopri un sacco di carattere e c'è l'alfabeto, giusto. Allora, scarico, sono curioso, tutti questi giochi strani, purtroppo strani su questi giochi. Ragazzi, devi scaricarci gli ultimi due perché è un po' troppo. Allora, scarichiamoci. Anzi, l'ultimo, questo qua. Ragazzi, ok, questo qua, questo è l'ultimo. Com'è la madonna che ho detto scaricati. Vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo quando mi sono scaricati tutti perché li ho scaricati un po' troppi. Vabbè, ragazzi, dopo che sono scaricati, ci metterò il video, vedremo cos'è sta roba perché è un po' curioso ora. Ok, 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 ragazzi, allora. Quest'applicazione sta a scuola scaricando con la prima alfabetologo. Ho paura. Cos'è? Mi sbagliò. Sono scelta, non è... Ehi. Ehi. E sono... B. 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 Cosa è sto gioco? Non, 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 quello consiglio, no, no, vabbè, accetto. cos'è sto perchè c'è una rossoletta della sensore c'è anche certamente sono le lettere però B non era perchè B gira perchè B gira B B B B C'è un po' è un po' sdentata e basta questo gioco ragazzi cos'era sto gioco immagina anche diverso vabbè ho paura di quello che sto facendo video call rainbow call perchè ce l'ha schermato io penso che c'è con l'alphabet no diremo voice call ehi ah c'è il tuo volete bene ah ah giustamente hanno messo hanno chiedi di fare qualcosa bello giustamente hanno messo giustamente perché non mettere il video di Alphabet Lord secondo me se stai qua per alcuni minuti lo ascolti tutto l'audio di Alphabet Lord ti ascolti no no voglio vedere video call video call certo ehi ehi io non immaginavo veramente il video di Alphabet Lord io lo sapevo rimboccando ehi io cosa sto vedendo nella mia vita ah ah c'è la chat però ragazzi ragazzi c'è la chat aspettate ciao 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 come fai no no sto bene quello che non è Alphabet Lord no si chiama Alphabet Lord quella è mmm quale è Alphabet Lord no ok ok allora perché sei così come spaventoso ma questa è la chat di rainbow friends ho giocato con qualcuno qui friends rainbow voglio rosservarti come sto a casa tua è Dory sei tu quella della chat no no non è Dory ragazzi ok ok chiudiamo sta applicazione disinstalla ok ok allora cosa ho scaricato alcune le ho scaricate alcune le ho scaricate perché sennò troppe erano ehm FNF Alphabet Lord esistono alcuni asset ma non l'ho mai visto proprio non l'ho mai visto proprio bene però ho paura cos'è non è che la prima applicazione è solo un po' diversa non si mette brutto dai non vada brutto mmm non si corre vabbè no no mmm glutina è bene non si corre bruttina che brutta questa applicazione stalla vabbè ragazzi allora giochiamo ad alfabetico coloring book ho paura cos'è sta roba no cos'è mo che sei cosa sto facendo ahhh gira non gira non gira lo schermo bene noi ci siamo fredati vedete vedete male ma non è colpa mia painting vabbè c'è 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 la c'è letteralmente un gioco dove si disegna e allora c'è 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 comerci youtube e ok facebook ce l'hanno tutti per favore perchè se ce l'ho installato non lo uso però comunque non c'entrano le bui ok ora è ben vabbè qua possiamo colorare no no li ho sentito il secchiato non è così il colore della è più ah no però è più così non so non mi ricordo a farlo era così sì ok ecco era così beh bene che bel gioco ragazzi cos'è sto gioco io sto paura cos'è sto gioco non sto capendo un capo perchè perchè un invo vabbè ragazzi basta basta ragazzi basta bellino posso dargli non lo so un'altra lorcallo giusto ciò che mi ispira in più ragazzi non so se farla perchè comunque allora questo non è quello che mi ispira quella lorcallo la potremmo anche saltare perchè abbiamo già fatto lorcallo vediamo non fa non non far arrabbiare f o o trasformare l'alfabeto a z transform game giusto ma cos'è sta roba oh no perchè di nuovo così perchè è bibbificati tutto a caso la c è bibbificata i denti di sangue che è non capisco il senso di sti giochi ah fa per l'altra c'è proprio perchè c'è l'immagine di un gioco di roblox ah beh posso vedere le trasformazioni ma quelle non sono su youtube cioè che io l'ho ragazzi io l'ho vista sta serie io la stimo anche la serie perchè è fatta benissimo io vi consiglio di vederla se magari la volete doppiata anche se non è proprio così tanto la serie perchè comunque potrei doppiarla perchè comunque è fatta bene tutte le trasformazioni e le lettere che non si trasformano tranne f non so perchè f è esclusa non si sa proprio ecco ti puoi guardare ragazzi qua è fatta benissimo e questo è un fan made ragazzi solamente un fan made poi allora bebe invita a vedere le trasformazioni di sto tizio però è fino alla D poi non c'è più nulla allora invita a vedere l'animazione di quel tizio che non mi ricordo poi si chiama magari altrimenti lo vediamo però posso dire che non è così male allora poi ecco l'ultimo gioco il gioco che mi ispirava era questo alfabeto lore perchè c'è uno di l'alfabeto lore del gioco non so mi ispira non da un momento dal Dr. Life's the Walking però mi ispira sto gioco non so mi da quel che di bello perchè giustamente perchè posso cliccare sulla giustamente ahhh you love sing hey a little too much il camore dice hey un po' troppo e allora e allora e e fine ma basta e questo è il gioco cazzi siamo sicuri che questo sia il gioco non c'è un pulsante per andare avanti ma questo è il gioco c'è dai mi ispirava il gioco pensavo fosse bello c'è un gioco dove dice solo che il tamore dice ehi un po' troppo ma non è che vabbè io stimo e vabbè la mia lettera però non è che sia così eh meglio ragazzi meglio giocare ai giochi dell'asilo tipo questo non è dell'asilo di minecraft che sto dicendo vabbè a roblox che c'entra roblox con minecraft no ok ragazzi spero che vi abbia visto aiuto io non voglio più giocare a queste applicazioni potremmo fare anche dire ragazzi potremmo anche giocare alle applicazioni Facebook friends o di poppy playtime o di poppy playtime sto già vedendo cose che non vorrei vedere o di poppy playtime tutti i poppy playtime li ho installati potremmo fare molte cose voi datemi le idee io le faccio quindi scegliete se non scegliete scelgo io quale sarebbero le prossime applicazioni le prossime applicazioni fake di altre cose rainbow friends o poppy playtime voi ditemelo io lo faccio se non lo scelgo da solo ok ragazzi spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ah giusto questo però è un video di alfa bellor quindi io sono Antonio e vorrei parlare come la ah scusate eh 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 eh